Adesso che cosa fate? Che pezzo fate? Adesso facciamo un pezzo che si chiama Scarnifica, è l'ultimo che abbiamo creato, vediamo un po' come va. Scarnifica cosa? Scarnifica, scarnifica l'essenza vitale, cioè appunto questo, basta apparenza, ragazzi guardate in faccia la realtà, guardate a fondo, guardate oltre, andate sempre oltre, oltre quello che si vide. Loro vengono dalla provincia di Bari, da un piccolo paesino, si chiamano Nequizia e hanno fatto 600 km per venire qui a suonare. Nequizia! Indossa pesanti maschere, incatena le tue certezze, sfoglia con ardore le pagine dell'amore. Indossa pesanti maschere, incatena le tue certezze, sfoglia con ardore le pagine dell'amore. Indossa pesanti maschere, incatena le tue certezze, sfoglia con ardore le pagine dell'amore. Indossa pesanti maschere, incatena le tue certezze, sfoglia con ardore le pagine dell'amore. Se avessi anni perdonare Facile poter scappare Se avessi anni perdonare Scarnifica Le stessalità Le scarnifica Le stessalità Le scarnifica Le stessalità Le scarnifica Con la pago Passeggiando senza tregua Con una broma ilesa E l'incontro finale Con la mia capabilità E l'incontro finale E l'incontro finale E l'incontro finale Grazie 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 Grazie